Io invece pensavo questa volta di fare un personaggio, un letter per l'hostess normale, una normale di Sherbendon. Ma neanche questa, una che fa l'hostess a te lo rivolare, non lo so, vi prego che fate fare una cosa normale. Non lo scrivo, 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 non lo scrivo. La suona è già fatta. E' fatta. Mi raccomando, passa la parola positivo, mi prego, non lo scrivo, non lo scrivo, passa la parola positivo. Prima era tutto molto carino, cioè è stato un registrante inizioso. Mi ha messo davvero a mio agio, ogni volta che ho ricevuto una scena, sono trecolizzata, non riesco a parlare tanto. E invece, mi ricordo che abbiamo girato una sera di molto creda, è stato scarino, mi ha abbracciato, mi ha incoraggiato, mi ha fatto... Mi ha fatto un discorso positivo e... Grazie Giulio. Grazie Giulio. Grazie.